Il nuovo numero di notizie, il magazine della regione Piemonte, è consultabile anche attraverso l'app per dispositivi mobili, scaricabile dall'Apple Store o da Play Store. In questa versione sono disponibili contenuti aggiuntivi, come foto, video, file audio e documenti di approfondimento. I servizi principali sono reperibili anche su medium.com slash at crpiemonte.